Ciao creativi! Oggi mi lascerò ispirare da questo stampo artigianale già Creations e il foglio iridescente foresta notturna. Un nome, un programma. Preparo la resina liquid glass di reschimica perfetta per far risaltare tutti i colori del foil. Lo sapevi che i fogli iridescenti, se messi su stampi 3D e opachi, donano effetti di luce pazzeschi? Ebbene sì, ebbene sì! Guardate che belli! Scelgo il mio preferito! Bravo, tu sei il fortunato di oggi! Nostro per resino UV, open bezel, fill crystal UV e poi utilizzo il pigmento glow in the dark nella colorazione green. Tutti questi materiali potete trovarli subito disponibili sul sito di reschimica. Per mettere il tutto nel mio open bezel immergo il teschio, un po' di solarium e voilà! Ecco il cendolo finito! Che ovviamente si illumina anche al buio! Che cosa ne pensate? Fatemelo sapere con un commentino qui sotto! Ciao!